Ma eccoci qui sempre a Miss Italy Queen, selezione Piemonte, prima edizione e abbiamo con noi un terzo posto fantastico di Chardonnay! Terza ragazzi, terza! Eh, lo vogliamo far vedere questo terzo posto? Lei è una bimba nata da pochissimo, da ottobre, e ha già un'esperienza pazzesca e una grinta eccezionale. Che cosa ti aspettavi da questo concorso? Non altro se non arriva le terza o prima. Mi accontento del terzo posto però. Il secondo non ti piace? Il secondo non mi piace, ma è seconda, ho terzo o prima. Beh, sicuramente sei una vincitrice e quindi vincerai prossimamente. Questo qui è un ottimo trampolino di partenza e poi il mucca assassina, ne vogliamo parlare? Sto in, guarda il materiale. E quindi siamo anche pronte per essere internazionali con Chardonnay! Grazie ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!